bella a tutti quanti ragazzi allora volevo fare un aggiornamento sul campionato che è finito un paio di giorni fa vi chiedo scusa del ritardo però sono stato un po occupato però è arrivato anche il video allora ragazzi volevo subito dirvi che fra un paio di giorni cioè mercoledì inizierà un nuovo campionato e vi terrò aggiornati sul campionato che andrò ad aprire e siete tutti invitati a parte ovviamente i profili che sono nuovi insomma i profili fake se avete giocato qualche campionato avete vinto qualche coppa qualche obiettivo qualcosa meglio ancora cioè non accetto profili che sono proprio bianchi proprio vuoti ecco allora ragazzi andiamo qua finale di coppa ragazzi due a due contro il manchester city ero riuscito sì a battere nel campionato però in coppa ragazzi ho usato il 451 ho usato il 451 ragazzi e avevo una squadra più forte della mia di poco ma più forte è stata una bella partita ragazzi ho perso la finale però è stata veramente bella come partita allora lui vi faccio vedere qua le statistiche come è andata la partita allora lui se l'ha cavata bene all'inizio per tutta tutta la partita ragazzi era 2-0 io sono riuscito a pareggiare alla fine due gol proprio in due minuti ragazzi alla fine nel minuto 87-89 ho fatto due gol siamo andati ai tiri qua ragazzi ai tiri cioè ho perso ho perso proprio la finale ho giocato bene nella partita ho giocato molto bene anche se ho fatto i due gol alla fine però se guardiamo qua le statistiche ragazzi guardate 4-5-1 formazione 4-3-3 a lui possesso va bene dove hanno giocato i giocatori retti tiri ragazzi è stata una bella partita ho segnato alla fine ragazzi due gol però ho perso la coppa ho proprio perso la coppa e niente da dire ragazzi è stato più bravo insomma sono cose che succedono e gli faccio i miei complimenti e insomma aspetteremo la prossima coppa però è stata una bella partita sono arrivato in finale però l'ho perso contro di lui è stato anche lui bravo e gli faccio i miei complimenti allora ragazzi il campionato è andato così eccolo qua Chelsea ha vinto il primo Crystal Palace secondo è stato molto bravo Crystal Palace eccolo qua il Black 7262 è stato molto bravo è 98 punti pari col primo ha vinto a differenza di gol abbiamo il Chelsea abbiamo il russo qua quello che non lo so terzo Manchester City che ha vinto la coppa è arrivato quarto come punti manager però è arrivato quinto e poi ci sono io ragazzi è stato un bel campionato e voglio fare i miei complimenti a queste persone che sono arrivate tra i primi tutti quanti bravi e poi a dire la verità hanno iniziato proprio dall'inizio del campionato fino alla fine tante persone invece sono scappate via tanti hanno fatto schifo sono proprio scappati hanno preso squadre forti hanno fatto proprio schifo ecco e tanti invece sono venuti dopo sono arrivati dopo nel mezzo del campionato però non sono riusciti a fare insomma un gran che io ho usato il totem sono arrivato in finale nella coppa la coppa che mi interessa come punti in campionato ragazzi come punti non è che ne ho fatti chissà quanti delle partite proprio le ho saltate non ho proprio giocato eccetera e quindi mi ero già reso mi ero reso già da metà del campionato mi ero reso avevo il morale proprio basso però a dire la verità abbiamo fatto un bel campionato ragazzi tante persone in bravi vi faccio i miei complimenti allora qua abbiamo le rose rosa Manchester City una bella rosa un miliardo io ho 900 e passa milioni e il russo qua con una squadra proprio scarsa con un obiettivo aveva un obiettivo ragazzi tredicesimo guardate che guardate che valore rosa che ho riuscito a fare molto bravo il Chelsea ha vinto il campionato anche con quella rosa e ragazzi mi è piaciuto mi è piaciuto tanto come campionato allora fra poco inizierà un nuovo campionato ragazzi vi farò un video aggiornamento dove farò vedere tutti i campionati che abbiamo fatto e le posizioni dove sono arrivato io i campionati che ho vinto i campionati dove sono arrivato in alto e i campionati dove ho fatto schifo come questo qua a dire la verità qua ho fatto sì qua ho fatto schifo in questo campionato però va bene ragazzi cioè vi ho detto mi ero reso già dalla metà del campionato e va bene allora vi aspetto nel prossimo video ragazzi e ricordate che fra un po' inizia il nuovo campionato vi terrò aggiornati sul campionato che aprirò e in bocca al lupo a tutti quanti ragazzi ci vediamo nei prossimi video ciao ciao